Bortone che ci ha portato dal punto di vista dell'ARPA, del sistema e della Regione Emilia-Romagna. Adesso passerei all'intervento di Carlo Zaghi, che è il rappresentante del Ministero dell'Ambiente e presottamente della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali. Quindi chiederei che cosa sta facendo il Ministero, quali sono le strategie, qual è l'efficacia dei sistemi autorizzativi e delle politiche ministeriali rispetto alla conoscenza, alla prevenzione e al risanamento. Prego, anche per lei 6-7 minuti, poi vediamo se riusciamo a fare un rapidissimo giro di repliche. Grazie, buongiorno a tutti, vorrei iniziare con una considerazione, quasi una battuta provocatoria perché questo rapporto ha rappresentato in questi anni e non deve rappresentare più in futuro la cattiva coscienza del settore agricolo italiano. Ecco, lo dico con molto piacere perché di fianco abbiamo il Dottor Blasi che rappresenta il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e spesso di fronte a queste informazioni non solo le parti interessate ma anche le istituzioni si dividono tra accusatori e difensori, tra accusa e difesa. Questo è quanto più di sbagliato ci possa essere di fronte a una rappresentazione dello stato dell'ambiente che ha l'obiettivo di fornire una fotografia oggettiva, veritiera, approfondita e sicuramente questo rapporto cerca di farlo. Perché non dobbiamo dividerci tra accusa e difesa? Perché noi dobbiamo avere un obiettivo comune verso cui convergere e l'obiettivo comune è quello di favorire una transizione verso un modello di agricoltura sostenibile e questo è molto chiaro in tanti ambiti decisionali sia a livello nazionale sia a livello di regioni sia a livello di Unione Europea e anche a livello di Nazioni Unite. Però gli sforzi che noi compiamo per raggiungere questo traguardo sono sforzi non coordinati, non di sistema con anche punti di riferimento diversi. Quali sono gli strumenti che abbiamo? E quindi vado un po' a rispondere alla domanda del dottor Marchesi. Abbiamo due strumenti che sono quelli di carattere normativo se qualcuno ci può, eccolo. Abbiamo due strumenti che sono stati già richiamati, due strumenti normativi di natura, di origine europea, il regolamento che riguarda l'autorizzazione dei prodotti e rappresenta un po' quello che noi facciamo a monte del ciclo di vita del prodotto fitosanitario. Questo regolamento 1107 obbliga sia le istituzioni europee, l'EFSA in primis, ma anche gli Stati membri a fare una valutazione del rischio approfondita e al termine di questo processo abbiamo l'autorizzazione a livello nazionale dei prodotti che possono contenere soltanto le sostanze attive che fanno parte di un elenco europeo. Progressi enormi sono stati compiuti negli ultimi vent'anni, siamo passati da 800 sostanze attive sul mercato a 400 sostanze che sicuramente presentano rischi molto inferiori a quelle che avevamo soltanto venti anni fa. Abbiamo però un altro strumento che è lo strumento di cui vi parlerò in maniera più approfondita nei pochi minuti a disposizione che è la direttiva sull'uso sostenibile, cioè lo strumento che affronta il problema a valle, cioè una volta che noi abbiamo sul mercato dei prodotti che sono stati valutati in maniera approfondita per il rischio dobbiamo garantire che nella fase a valle, quindi nella fase di uso, l'impatto derivante dall'utilizzo di questi prodotti sia ridotto al minimo e la direttiva prevede grosso modo 7 azioni che non vi sto ad elencare e una serie di indicatori per misurare i progressi compiuti. Abbiamo visto quindi il contesto normativo europeo e a livello nazionale quali sono gli strumenti che abbiamo messo in campo in questi anni? Allora innanzitutto vorrei evidenziare un fatto abbastanza originale, il legislatore nazionale ha stabilito che le autorità competenti per l'attuazione di questa direttiva siano tre amministrazioni centrali, quindi il ministero delle politiche agricole, il ministero dell'ambiente, il ministero della salute, le regioni e le province autonome. Perché? Perché il legislatore evidentemente ha ritenuto necessario per dare davvero attuazione a questa direttiva un approccio di sistema e non un approccio settoriale. Ovviamente questa è un'ambizione molto elevata che comporta anche il superamento di alcune difficoltà che abbiamo incontrato in quest'azione di coordinamento e in quest'azione di sistema. questo decreto legislativo del 2012 ha portato alla definizione e all'adozione di un piano d'azione nazionale d'intesa con la conferenza Stato-Regioni e questo piano d'azione nazionale ha portato a definire misure per la tutela dell'ambiente acquatico e qui abbiamo lo specifico perché ci occupiamo proprio di tutela dell'ambiente acquatico, di indicatori relativi all'attuazione del piano e di criteri ambientali obbligatori da utilizzare nelle gare d'appalto per i trattamenti fitosanitari sulle strade e sulle linee ferroviarie. Anche questo è un elemento abbastanza originale del sistema italiano perché questo strumento dei criteri ambientali obbligatori l'abbiamo valutato dal sistema degli acquisti pubblici verdi poiché abbiamo ritenuto che questi trattamenti su strade e ferrovie vengono sempre appaltati dai vari soggetti e abbiamo ritenuto opportuno utilizzare lo stesso modello e lo stiamo sperimentando in quanto come vedete il decreto è estremamente recente. Queste linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico prevedevano 18 misure e miravano ad integrare le finalità della direttiva sull'uso sostenibile con le finalità della direttiva quadro sulle acque. La scelta delle misure è stata demandata alle regioni e alle province autonome in modo da coinvolgere tutti i soggetti interessati a livello territoriale. E concludo. Da due mesi circa le amministrazioni competenti per l'attuazione di questa direttiva hanno iniziato l'attività di revisione del piano. Nel 2017 abbiamo interagito con la Commissione europea che ha svolto in Italia una indagine conoscitiva per conoscere il grado di attuazione del piano. Questa indagine conoscitiva della Commissione europea ha messo in evidenza alcune criticità. Mancata indicazione di obiettivi quantitativi di riduzione dell'uso e del rischio dei prodotti fitosanitari. Il coinvolgimento nella formazione obbligatoria soltanto del 50% degli utilizzatori. Il controllo funzionale delle erroratrici che è un aspetto importantissimo per la prevenzione dei fenomeni di contaminazione dei corpi idrici che ha coinvolto fino ad oggi solo un quarto delle macchine presenti in Italia. Una scarsa applicazione delle misure per la tutela dell'ambiente acquatico e delle aree naturali protette, cioè il sistema non ha funzionato come noi ci aspettavamo soprattutto per l'assunzione delle decisioni spettanti alle regioni e alle province autonome. Infine i controlli sull'applicazione della difesa integrata sono stati limitati soprattutto ai produttori coinvolti dalle misure di sostegno finanziario in particolare dalle misure di sviluppo rurale. Per lo sviluppo rurale. Concludo dicendo che abbiamo già iniziato l'attività di revisione del piano, coinvolgerà a questa attività le parti interessate e dovrà concludersi entro la fine del 2018. Grazie. Grazie al dottor Zaghi del Ministero.